Il Pontificio Istituto Ambrosiano di Musica Sacra con sede in Milano, una scuola di grado universitario eretta cronicamente con decreto della sede apostolica del 1940 ed ha come finalità lo scopo di approfondire, di studiare e di arricchire anzitutto il canto ambrosiano, canto proprio della Chiesa milanese e le discipline della musica sacra in generale. Le discipline principali di questa scuola riguardano anzitutto il canto ambrosiano e gregoriano, l'organo, la direzione di coro, il canto sacra, la vocalità e la composizione e mirano a fornire competenze necessarie allo sviluppo della musica in tutte le sue sfaccettature e soprattutto anche della musica per la liturgia. La scuola offre studi accademici con dei gradi riconosciuti dalla Santa Sede, i titoli ecclesiastici che sono la laurea di primo livello, il baccellierato, la laurea di secondo livello, la licenza e poi il dottorato. Questi titoli sono riconosciuti anche dallo Stato italiano a partire dal 2019. Lo studio e l'approfondimento accademico o anche semplicemente amatoriale, i corsi quale organo, pianoforte, canto, servono proprio ad incrementare, arricchire la conoscenza e la competenza di ciascuno, non solo a livello ecclesiale, ma anche per collaborazioni con ensemble o gruppi extra ecclesiali. Grazie.